Alla Liquigas Cannon della responsabilità di tenere alta l'andatura in questo momento è andato a cercare Damiano Cuneco veramente un Michele Scarponi straordinario mentre mancano 3 km all'arrivo 3.000 metri al traguardo posto proprio nella piazza principale di Lanusei sempre Vincenzo Nibali a fare l'andatura Michele Scarponi lo vediamo là dietro affiancato poi vediamo anche le maglie dell'Androni di giocattoli ricordiamo Emanuele Sella e Serpa Perez uomini di classifica vedete come si è ridotto il gruppo dei primi sono una trentina ormai forse anche meno i corridori che fanno parte del gruppo di testa sempre guidato dalla Liquigas Cannon del sempre guidato da Vincenzo Nibali De Negri con il numero 122 della Farnese Neri in coda al gruppo di testa sempre gli uomini Liquigas Cannon della fare l'andatura abbiamo visto in terza posizione Peter Sagan e alla sua ruota Damiano Cuneco lo ha battezzato come l'uomo più pericoloso per la sua grazie a tutti 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 Grazie a tutti.